ciao ragazzi io sono il cane di doctown46 vedete vedetevela con lui bello a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video io sono doctown46 e oggi come vi avevo promesso giocheremo ad assassin's creed blue green eyes e prendo la mia pc e si sta accendendo vabbè mi piace toccare vabbè a proposito se vedete entrare degli uccellini come quello è questo non fateci caso ecco ne sta passando un altro non fateci caso vabbè non fateci caso eh ok vabbè vabbè questa è fantastica vabbè 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 ok 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 per camminare sconto va bene la cazzata e poi la cazzata eh salta ok non sono schermato per giocare assassini se reagite al contrario mi date un secondo per prepararmi vai a cantare non mi darò mai da scelta dai 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 Grazie a tutti. Salve, soggetto 17. Questo corso di istruzione ti consentirà di familiarizzare col sistema di controllo dell'Animus. Tra breve, riceverai istruzioni. L'Animus opera come una sorta di burattina. Ah, io per controllare le azioni del tuo antenato. Sto caricando delle subroutine per adattare il tuo corpo alla macchina. Inizieremo con l'esame di alcune delle azioni predefinite di ciascun impulso. L'Animus opera come una sorta di burattina. L'agaccio mi ha superato solo. Ce l'hai davanti. Sappi che seguire il credo dell'assassino, il codice comportamentale del tuo antenato, ti aiuterà a restare in sincronia. Il credo consiste in tre principi. Primo, mai fare del male un innocente. Secondo, essere sempre discreti. Terzo, non compromettere la confraternita. Se dovessi perdere la sincronia, puoi ripristinarla rivivendo i momenti salienti della vita del tuo antenato. Oppure, osservando il credo. Ok, quindi devono essere l'altro e l'assassino. Ok, let's see. Yeah! Ok, prima cosa faccio. Ok, allora. no 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 Sì, è vero. Grazie a tutti. Sì, ok scusate ragazzi, era mia nonna che mi diceva delle cavolate. L'assassino è qui! Ah, scusate il pallo. Sì, scusate. Sì, scusate. Sì, scusate. Sì, scusate. Sì, scusate. Sì, scusate. Sì. Sì. Sì, scusate. 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 Sì. Sì, scusate. 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 Sì, scusate.